Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono Varian Game e oggi siamo su Geometry Dash. Mi scuso ancora in anticipo se non ho potuto far sentire la mia voce, ma sto registrando a mezzanotte con un cellulare che non era il mio. Comunque, superiamo i 5 like o anche 10 se volete e buona visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!